Strymon Deco lo Strymon Deco è l'ultimo pedale di Strymon e simula gli effetti utilizzabili con due macchine a nastro con lo stesso segnale. Originalmente tutti gli effetti che adesso noi conosciamo come chorus, delay, flanger si ottenevano utilizzando delle macchine a nastro. Vi voglio mostrare molto brevemente le caratteristiche sonore principali del pedale. A destra abbiamo la sezione che riguarda il tempo e la modulazione. Un pot che regola il tempo di ritardo fa passare il nostro suono da un flanger a un chorus a un delay slabback a un delay più lungo. Chorus. Slippi 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 Sotto abbiamo un controllo che simula l'usura del nastro e delle testine e produce una modulazione. la parte sinistra del pedale invece controlla la saturazione a nastro, mista a una compressione e un volume per regolare i livelli. potete sentire un leggero overdrive simula la tipica saturazione del nastro. Un utile per ottenere dei suoni più old school. Slippi 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Strymon.